La provincia di Lucca interviene a sostegno del trasporto pubblico locale, un anticipo di cassa di 2.206.000 euro autorizzato con un'apposita delibera di giunta a favore della ditta Vaibus Scarl, che gestisce il trasporto pubblico nell'intero bacino provinciale e in quello extraurbano per conto dei comuni di Lucca e Viareggio, un contributo economico deliberato in via del tutto eccezionale per contribuire al miglioramento di quei disservizi che pongono Vaibus al centro di molte critiche. L'azienda si trova di fatto nella difficoltà di reperire risorse necessarie alla copertura di alcuni costi del servizio e degli stipendi del personale. L'approvazione della delibera segue a pochi giorni di distanza l'incontro svoltosi lo scorso 5 dicembre tra i rappresentanti della provincia e di Vaibus, durante il quale si sono evidenziate le difficoltà dell'azienda a far fronte a una parte dei propri impegni. Anche in questo caso la provincia si è fatta carico di anticipare risorse regionali, commenta l'assessore provinciale ai trasporti Luigi Rovai, nel tentativo di evitare che gli effetti dell'articolate difficile riforma del trasporto pubblico locale si ripercuotano sui lavoratori e sulle loro famiglie.